Presentato a Roma nel Salone d'Onore del Cogni alla presenza del Presidente Giovanni Malagò la 22esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Minarini. Nella Casa dello Sport italiano è stato ufficializzato il programma di questa edizione ma soprattutto i premiati, con la cerimonia di consegna il 19 luglio a Castiglion Fiorentino. Tre protagonisti di questa edizione, selezionati da una giuria internazionale, figurano tra gli altri l'ex campione NBA Tony Cuccoc, Vanessa Ferrari, la prima ginnasta italiana a conquistare una medaglia d'oro in un mondiale, Giovanni Trapattoni, l'ex rugbysta Marco Bortolami e molti altri. Ogni anno dicono che più di questo non possono fare, anche perché è vero che lo sport va avanti, ci sono sempre competizioni che creano nuovi miti, nuovi campioni, nuove leggende, però c'è una capacità di, la parola magari non è troppo elegante però rende l'idea, di reclutamento in sport così diversi a livelli spaventosi di personaggi che proprio onorano questo premio e che poi sono il vero valore aggiunto di tutta la manifestazione. Ho fatto i complimenti e lo penso veramente. È vero che il premio viene dato alla carriera, a quello che i sportivi ormai in pensione hanno fatto, però ci sono anche premi che vengono dati ai giovani per le promesse, per l'impegno. L'anno scorso io porto ad esempio Sofia Goggia, noi abbiamo premiato Sofia Goggia che era una promessa dello sci e che poi ha fatto quello che ha fatto alle Olimpiadi, cioè ha vinto la medaglia d'oro e adesso è diventata una piccola star. I premiati saranno, ci sono cinque stranieri, sono Tony Kukoc, basket, Robert Korzanowski, polacco e marcia, Charlotte Calla, Svezia, sci di fondo, Stefano Olme, Svezia, salto in alto, Carolina Costner, Vanessa Ferrari, Marco Bortolami, c'è Antonio Di Gennaro e Massimo Rastelli per il calcio, c'è Arianna Fontana, c'è Xavier Iacobelli per il giornalismo, poi c'è Davide Mazzanti e Serena Ortolani che è la coppia marito e moglie, allenatore a pallavolo e grande giocatrice di pallavolo, poi c'è il Cittadella Calcio e c'è Marco Maria Dolfine che è il medico chirurgo che è nello sport oltre lo sport, più Daniela Antusciova era l'altra straniera e l'ultimo ma non ultimi sono Elisa Santoni e Giovanni Trapattoni, questo è l'elenco completo, oltre al premio delle fiamme gialle che la nostra retina ha già comunicato in occasione delle borse di studio Noemi Biacini.